L'amore ti fa tutte queste cose. Hai una grande storia d'amore. Goditele e basta. Puoi pensare solo un eroe, ma la ragazza fa le sue opinioni. Il tuo naso può essere così, non importa. Un viso gioioso è sempre un bel viso. Sargurugi, questo è molto comune nella mia università ed è vero sia per me che per i miei amici. Quindi sono innamorato di una ragazza e... E... quello che succede è che non ho il coraggio di parlarle ed è come un'insicurezza che ho. Penso di non meritarla. E allora cosa fare? A riguardo? Ami una ragazza o ti sei innamorato di una ragazza? In realtà mi sono innamorato. Ok. E' successo questo. Prima di diventare un ubriacone, andava all'università Shillong. Shankaran Pillai. E stava facendo il suo dottorato. Un giorno andò dal suo docente tutor e disse Professore, ho bisogno del suo aiuto per qualcosa di molto importante. Allora il professore disse, sì, sono qui per questo, dimmi pure. Poi nominò la più bella dell'università e disse, Professore, ne sono innamorato perso. Ho bisogno del suo aiuto su questo. Cosa vuoi dire che hai bisogno del mio aiuto? Non sono qui per aiutarti con questo tipo di cose. Sono qui per scoppi accademici. Lui disse, no, professore, ho successo al 50%. Deve solo aiutarmi con l'altro 50%. Lui chiese, che significa avere successo al 50% comunque? Disse, ne sono innamorato perso e non lo sa. Per l'altro 50% deve aiutarmi lei. Quindi, goditi la storia d'amore e basta. Perché ora è completamente sotto il tuo controllo. Se coinvolgi anche lei, poi ne prenderà il controllo. E non dico che non dovresti innamorarti di qualcuno, ma non avere fretta di vivere. In questa fase della tua vita, vedi come potenziarti per diventare una vita di valore. Poi le cose giungeranno a te in un certo modo. Se ti precipiti nella vita troppo presto, allora, sai, altri aspetti della crescita verranno inibiti. Siccome ti sei legato emotivamente, subito la ragazza dice, vengo con te domani mattina. Allora subito devi trovare un lavoro, non hai finito la tua ingegneria, troverai un'auto risciuta a guidare. Tutte queste cose succederanno. L'amore ti fa fare tutte queste cose. Quindi, hai una grande storia d'amore, goditela e basta. Non dirglielo. Sadguru, credo che volesse anche sapere dell'insicurezza che ha. Anche se il contesto era quello, chiede soprattutto dell'insicurezza. Vedi, questa non è insicurezza. Il dubbio riguarda lei. Come risponderà? Questo è il dubbio. In qualche modo, quando si tratta di te stesso, la questione sono abbastanza all'altezza per qualcosa, non sono abbastanza all'altezza per qualcosa, non dovresti preoccupartene. Devi solo vedere ogni giorno come puoi essere un essere umano migliore di come sei adesso. e poi il mondo, con il modo in cui risponde, ti dice se sei abbastanza all'altezza o no. Non sta a te a pensarlo, vedi? Ecco perché c'è un esame alla fine dell'anno. Perché? Perché potresti pensare di essere un grande ingegnere, ma i risultati dell'esame ti dicono... Quindi anche questo è così. Tu puoi pensare solo un eroe, ma la ragazza ha le sue opinioni. Quindi, invece di questo, vedi come migliorare te stesso, in quanti modi possibili, non solo nel tuo aspetto. Perché il tuo aspetto verrà ignorato dopo un po'. Devi migliorare te stesso. Come migliorare te stesso? Almeno stai cercando di diventare un buon ingegnere. Questa è una buona idea. Un'altra cosa è... semplicemente vedi. migliore cosa significa? Qual è la cosa che attira sempre le persone? La cosa che fa sembrare una persona meravigliosa non è la forma del tuo naso, o la punta del tuo mento, o la tua conciatura, o quant'altro. Un viso gioioso è sempre un bel viso. Non è così? Il tuo naso può essere così, non importa. Un volto gioioso è sempre un bel volto. Fai quell'unica cosa, forse lei si innamorerà di te. Semplicemente alzati e splendi. Se ti alzi e splendi, tutti guarderanno in quella direzione, non è così? Impara a cantare, a cantare una canzone. Possiamo insegnarti, se vuoi. Solo una canzone che possa farla innamorare. Grazie. 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 Grazie per la visione!